Io dico sempre che quando si parla di imprese dobbiamo capire di che tipo di imprese sono, quindi ci vogliono degli interventi sartoriali, se parlo della manufattura ci vogliono degli interventi, se parlo di imprese di possibilità altri tipi di interventi e le imprese sono tutte importanti, qualsiasi derusione. Diciamo che una cosa è stata detta, mi pare, dal segretario Letta, che la politica è molto più responsabile nelle stanze di dove si vedete voi, lo so, mi auguro, insomma, questa è una bella considerazione che è stata fatta. Diciamo che io ho trovato comunque una visione rispetto al momento di intervenire sull'attassazione, imprese, famiglie, perché non si può. Quindi vediamo poi come, è chiaro che ciascuno la definirà rispetto alle proprie sensibilità, però questo è il momento veramente di gettare le basi per il futuro delle nostre generazioni, perché parliamo tanto di giovani, donne, parlarne è facilissimo, lo cerchiamo di fare.